SDS Food Service ha l'obiettivo di semplificare al massimo la gestione delle sostanze pericolose in diversi settori industriali. A livello tecnico vengono estratti dati dalle schede dati di sicurezza e vengono raffrontate con banche dati normative e di settore o di interesse del cliente. La sostenibilità del progetto deriva dalla riduzione o dall'eliminazione di sostanze tossiche o pericolose in tutto il ciclo di vita del prodotto e nell'ambiente. SDS Food Service è replicabile in qualsiasi settore industriale che faccia uso di prodotti chimici e di fatto l'applicazione delle fashion è già una replica.